cari videogiocatori e cari videogiocatrici eccoci qua per continuare con dreams provare nuovi sogni nuove avventure e provare altri horror in realtà sì quindi sono qua adesso che sono qua voglio provare ad andare avanti provare nuove cose vediamo un po cerchiamo sempre horror io continuo con l'horror attualmente e poi passerò non so quando a cose diverse horror proviamo questo qui dai come aperitivo vediamo che che roba è quindi qua è tipo una vhs quanto pare sì lo schermo è in quattro terzi abbiamo le bande nere si apre la porta ok guarda la porta bianca che bella è stupenda sta porta e non le apre sono anche guarda le porte si spingono qua non si aprono iniziamo bene dai una sedia qua non va tutto chiuso si vedremo vedremo che cosa ci regalerà ok live live è un po criptico live vedi ah cioè non mi fa andare deve succedere qualcosa posso aprire qua adesso si aprirà no sono quasi le 8 che cavolo è successo ok rientro qua dentro c'è l'orologio anche qua anche qua si è scritto live ma quindi adesso cambia la scritta nel foglietto si si nessun problema tranquillo vai vai no live sempre boh aspetta 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 no ok si è aperto adesso finalmente si va avanti non lo so sembra un edificio qua ci forse il tizio ci lavorava sembrano uffici qui bisogna provare roba nuova anche vedere un po' se c'è qualche altra perla che succede un lungo corridoio bene oh guarda c'è anche l'ombra è evoluto il gioco abbiamo un'ombra che sembra un omino quelli stilizzati ottimo eh ma non vedo niente e qua si guarda io non so dove andare ah ok forse abbiamo un interruttore della luce come si accende la luce in sto gioco sto premendo tutti i tasti ma poi mi avvicino se salto lui torna indietro il nostro uomo guarda eh schiaccio la x attaccato al muro indietreggia ok ma la luce no non me la fa accendere la luce non me la fa accendere che roba è no ma perché c'è una porta qua adesso ma sono arrivato da qua io non lo so ah si accende in automatico la luce senza che senza toccare nulla ok mi sono mi stavo preoccupando fa tutto in automatico non devi neanche premere qua abbiamo un altro foglietto credo found you ma ha trovato me o io ho trovato il foglio non lo so l'hai sentito anche tu il rumorino strano adesso devo tornare sicuramente qua e ci sarà qualcos'altro no non c'è più niente è scomparsa la porta ma un'oretta e mezza così più o meno è tutto molto strano qua eh guarda guardalo qua è lì davanti a me non lo so che roba è un bengala c'è anche ok è enorme tocca quasi il soffitto con la testa allora questo tizio qua adesso mi avvicino sicuramente scomparirà la luce e sparirà anche lui vediamo e infatti lo sapevo ed è apparsa una porta ottimo e non si vede niente il buio più totale ah ok quindi c'è un muro non mi fa andare avanti mi devo girare e uscire ho capito oh forse abbiamo trovato una torcia si la torcia finalmente abbiamo qualcosa almeno potrò vederci forse r1 per la torcia ok possiamo vedere il braccio del nostro uomo qua e le sue gambe per ora non c'è niente di pauroso però vedremo non lo so prima la porta perché forse triangolo triangolo per cosa perché mi diceva triangolo non lo so bello eh che si avvicina scompare la torcia non vediamo più una ceppa da quest'altra parte anche con la torcia non è che cambi poi molto perché non vedo nulla lo stesso poi contro i muri questo riflesso è inguardabile fastidioso non lo so è una stanza quadrata c'è un altro pulsante qua eeeh c'ha no dove sono sento i passi ma non vedo nulla dammi la ah ok 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 la torcia va ok no eeeh dove vado qua ripremo anche qui no si posso premerlo ok mi fa premere gli interruttori ma non accende la luce manco a morire ah però mi ha aperto la porta grazie ma qua non mi serve la torcia tanto ci vedo per così dire non l'ho mai amato qua che abbiamo si sa lo si scende non ho ben capito però ci siamo spostati di piano siamo gli unici qua in questo edificio a parte quella creatura che abbiamo visto mezzo secondo l'uscita la fuga che cavolo che finale c'ero cascato ha messo il suono della playstation qua ah non è finito oh cazzo sono inseguito no ma eh mi prende mi ha preso che è succede cioè ma non ho capito niente qua non ci ho capito una mazza non posso più muovermi apri la può non l'apre quindi si si è cascato anche tu hai visto ha crashato il gioco ma era una cosa voluta ma mi è piaciuta come cosa mi è piaciuta guarda ora è comparsa pure la scritta del gioco quindi finisce così però è stata una genialata quando ho crashato così c'ero cascato dai va bene gli do il voto positivo dai nulla di elaborato però al finale ci sono cascato pure io mi stavo preoccupando per la play ho detto adesso mi si è fottuta la play poi qua abbiamo non lo so un negozio che roba è uno short vhs horror ah si ispira a puppet combo avevo già fatto un loro gioco di questi qua no non avevo uno scopo bisognava andare avanti e basta allora proviamolo poi ho già docchiato un altro night shift vediamo che roba è secondo gioco si ho visto c'è anche non so se ti piace soul ho già visto che c'è soul allora qua mi sembra un po' alto l'audio lo abbassiamo un po' lo so con le cuffie ce l'ho già le cuffie si l'enigmista c'è subito dopo questo gioco c'è anche quel gioco ha creato si si lo provo subito dopo questo intanto vediamo com'è questo qua si l'ho anche abbassata perché era un po' troppo alta sovrastava un po' troppo la mia voce play ok quindi siamo in un supermercato non lo so come faccio a giocare ho schiacciato play o sono uscito ok siamo siamo qua non lo so fatto old school amber si chiama get out le sei ok want me to pick ah si va bene tried quindi stanno parlando amber ma noi siamo no noi siamo perché c'è sito you quindi non siamo amber have fun ok ah ci hanno lasciato qua bene di notte per andare al lavoro guarda è un posto sperduto non c'è nessuno qua di nuovo senza luce tra l'altro bene ah è una pompa di benzina e ho capito e c'è anche il negozietto classico americano no questo vediamo lo vediamo spesso nei film vediamo un po' che roba è qua posso anche alza è appena in tempo ok non è problema mio se tu hai da fare che cazzo come on eh va bene sono stanco vabbè spostiamo magari un po' la webcam almeno si legge tutto lo posso anche rialzare un po' sperando che la musica non parta all'improvviso a palla che allora vediamo un po' quindi tu te ne vai giusto lasci il posto a me e prendo io qua le redini quando arriverà ti divertirai e occhio che adesso i poteri allora siamo alla cassa posso anche uscire dalla cassa volendo ma devo aspettare i clienti e mi devo mettere a pulire qua non lo so eh eh cos'è sta musica posso anche uscire eh eh cannelli non posso lasciare il negozio e va bene che cazzo se non lo vuoi lasciare cos'è birra non lavoro durante sì non lavoro sì non lavoro non bevo durante il lavoro giustamente non ti puoi ubriacare mentre sei in servizio qua che cavolo abbiamo possiamo fare anche i guardoni volendo è entrato qualcuno uno indefinito c'è qualcuno eh sì c'è un cliente così materializzato ok non lo so l'idea di lavorare in un posto del genere di notte da solo dove non c'è anima viva un po' potrebbe fare paura effettivamente se è un po' rischio rapine però mi sa che il rapinatore non troverebbe tanti soldi qua visto che passerà un uomo ogni chissà quanto in una strada del genere è fatto apposta così mi sa è volutamente pixeloso il gioco vediamo se la trama è buona vediamo che succede che roba hai comprato non ma quelli erano i soldi grazie ok ok sigarette niente di interessante che cavolo c'era scritto qua sì sì è stupendo ma la roba qua per terra quello di prima non ha pulito aveva fretta di andarsene stavo leggendo sì birra non bevo l'hai già detto che non bevi adesso tutto tranquillo no tutto carino così coi clienti tra poco arriverà il maniaco ci scommetto qua c'è già uno scomparso abbiamo anche il cabinato il cabinato un arcade allora arrivato di nuovo qua scommetto che si è arrivato qua dentro ricontrollo un attimo i monitor arriva un altro cliente vero sì è così devi andare a vedere il monitor per far materializzare il cliente tra l'altro lo stesso di prima l'immagine è la stessa no non c'è il cliente ma che cavolo non c'è il cliente ma il monitor sta arrivando quando un camionista si ferma fa il pieno no non non viene qua i can't leave the store non posso lasciare il locale il negozio eh va bene che non puoi neanche berti una birra quindi come lo ammazzi il tempo allora provo il cabinato stavolta è il momento del cabinato vero ma per andare avanti io vorrei andare avanti aspetta che aggiusto anche un po' qua così si vede meglio il gioco lo vediamo ancora più bello no ho rimpicciolito un po' la chat giusto un pochino e che ok non questo qua questo si ferma attenzione forse fa il pieno in commi ok sta arrivando un cliente una signora una biondina credo potrebbe anche avere i capelli bianchi in realtà però cosa comprerà la signora signora mi dica ok ah posso usare il bagno eh non lo so funziona il bagno sorry eh infatti il bagno non funziona mai è vero questo è un po' un cliché però è vero abbiamo perso abbiamo perso abbiamo soddisfatto un altro cliente ma quindi qua c'è un tipo un timer nascosto dobbiamo aspettare annoiandoci fino all'arrivo del prossimo cliente non so arrivando un attimo per stare fermo mi faccio mi faccio un giro però roba interessante non ce n'è qua da vedere roba interessante aspetta qua abbiamo una specie di ah posso anche pulire vabbè me ne aveva detto forse lui di pulire vediamo se posso pulire la porta è chiusa e non so dove sia la chiave va bene se la trovo magari pulendo dai pulisci qua a parte che non pulisce una mazza arriva un altro che bello lo accolgo con la ah abbiamo un tizio con un cappellone qua ciao amico sei da solo cow 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 worker già uno che ti chiede se da solo questa intenzione malvagia questo è il ladro ve lo dico io è il rapinatore questo vediamo che cosa vuole si sta guardando un po troppo attorno detto fra di noi non posso guardare quello che fa i cavoli dei fuori dalla mia visuale dove cavolo sta andando ma si fa tutti i reparti questa avanti e indietro ok sta arrivando sta arrivando vediamo un po cos'è comprato alcolici una birra non lo so e adesso abbiamo soddisfatto il terzo cliente vediamo un po quindi è tutto casuale devo stare qui aspettare ma pulire non pulisce abbiamo la scopa che però non scopa io la rimetto a posto perché accogliere i clienti con una scopa in mano non è proprio il massimo questa porta è chiusa l'hai già detto dove era l'altra porta qua no ah così si scopa ah ok devo premere quadrato ma va cagare non lo sapevo adesso si scoprono cose nuove non è affatto dire questo si è scritto ah i guys ok no no è qua che fa il rumore ah clean the bathroom la chiave dov'è però do we put the floors place it back where they belong ok quindi il mio lavoro è questo qua afternoon va bene place it mi dice del bagno ma il bagno non ho la chiave come faccio a pulire il bagno se non ho la chiave dove è la chiave del bagno continua a dirmi che non può lasciare questo qua è il bagno no questo qua non è il bagno ah si può uscire fuori cioè adesso possiamo uscire siamo dietro nella zona nel retro sul retro ah il bagno è qua quindi per andare in bagno devi uscire dal negozio fare il giro e poi rientrare eh ma che zozzoni qua siete dei zozzoni il bagno è l'ercio ma non lo pulisce e io sto pulendo ma non guarda guarda che roba poi mi dice di pulire io lo sto facendo vedi non a parte che qua servirebbe un morcio e non una scopa poi guarda qua guarda il cesso com'è guarda che bellezza non lo so non mi fa pulire anche con forza con forza niente ce l'abbiamo il mocio sono morto sono morto sono morto sono morto anch'io sono un po' un pochino non me lo aspettavo beh almeno c'è stato un jump scare finale dai gli do anche in questo caso il voto positivo solo per il finale l'unica cosa carina ma quindi finiva così non penso che ci sia altro so ah guarda è proprio come so inizia non sono un grande fan dei film di so però li ho visti non tutti ma li ho visti la musica eh inizia il gioco qua l'audio lo devo abbassare un po' perché è alto vediamo un po' cosa c'ho X ah non può giustamente che cavolo che è sta roba no va bene vediamo un po' come è questo ah è fluorescente morte bene 5 secondi mi dice della X ah posso accendere e spegnere la tv ma se la spengo non cambia niente dead da qua non uscirò sicuramente perché se non risolvo l'enigma ma è davvero così questo c'è morto ormai non ha più mangiato ed è morto di fame questo qua sicuramente che cavolo devo fare posso spegnere la luce aspetta aspetta ah qua c'è ah ok c'è qualcosa qua e leva ci ho lasciato la mano 22 che cazzo e che devo fare c'è il tempo qua non posso strutturare qua ma che cazzo senza una mano ah ok quindi appena in tempo cicatrizza così ah la sta ok ha bendato ci ho lasciato una mano bene e non sono morto lasciarci la mano che è servito però ah qua aspetta aspetta dentro al cesso ah posso abbassare o alzare la tavoletta potrebbe anche ecco la chiave l'ho presa ho trovato la chiave era dentro al cesso ottimo ma prima che cavolo faceva il nostro uomo la non c'è un intercapedine sembrava quasi che volesse oltrepassare invece non lo so la chiave cosa mi serve posso aprire qua dalla mano no ah la infila qua la chiave e siamo a 2 su 4 si è sbloccato l'ultimo giustamente non ci farà andare davanti perché non siamo non abbiamo tutto non abbiamo risolto l'enigma ah è qua forse vediamo un po' che c'è ah possiamo ecco possiamo farci una pisciatina ma l'utilità tra l'altro piscia all'infinito lui chissà i reni la vescica quanto quanta ne contiene no guarda che roba scrollatelo bene oh mamma ma ha un senso sta cosa dopo due ore smette di pisciare perfetto ma ah ecco la terza cosa era pisciare abbiamo fatto tre cose su quattro manca un'ultima cosa e cosa sarà manca ancora una cosa e apriamo qua non mi dice nulla qua non mi dice nulla posso tipo accendere la tv ma non c'entra vero? l'acqua non l'apre la mano giustamente non ce la mette qua in sta roba verde non c'è nulla aspetta aspetta ho trovato a caso così eh bisognava accalpestare eh lo so però sì sì forse quello lì penso anch'io che sia migliore se hai voti 1400 voti 1400 pollici in su dubito che faccia schifo eh vediamo sovrannaturale perfetto horror mistero prima persona dai proviamolo ah stiamo e questo è tipo slenderman registriamo qua posso anche togliere la torcia ma non vediamo nulla non è il caso si scende giù eh vediamo com'è questo ma cosa siamo al centesimo piano tre ore per scendere spero che non sia una trollata questa scendo all'infinito no sarebbe diverso sarebbe il massimo adesso due ore io vado ancora scendo ancora voglio vedere un po' cose del genere mi sono già capitate quindi non mi stupirebbe più di tanto guarda guarda scendiamo scendiamo non succede nulla adesso poi mi giro vado ancora un po' giù voglio voglio stare al gioco spengo anche la torcia no con la torcia spenta no non vedo nulla sì sì è una trollata questa te lo dico io possiamo anche saltare no per un attimo mi sembrava no no va giù ma non c'è una fine dai ridiamoci sopra perché qua se no il suono è fastidioso cavoli mi sta irritando non so a te sì adesso la sento anch'io sai sento la donna la sento anch'io prima non la sentivo e si hai ragione la sento la sento quindi mi sto avvicinando lo senti anche tu più forte ma piange o ride non si capisce dai che c'è il jump scare dai questo suono questo suono si si dai che c'è beh se c'è comunque me lo aspetto dai è un po' scontato si 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 spengo la torcia no occhio non vede cuore non duole risato o pianto pianto o risata non mi sono abituato comunque a giochi con fantasmi ma sembra più una risata isterica però eeeh 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 vediamo eh 3 2 1 è qua eh è qua eh signorina ma stiamo scendendo dall'inferno eeeh 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 dai 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 questa parte non lo so se la terrò così quando poi la caricherò su youtube o la velocizzerò un po' perché è un po' lenta vero? la discesa verso non lo so l'inferno la morte mamma mia hai ansia eh? io io sinceramente più che ansia frustrazione a dover scendere sì no eh eccola ma una faccia non è una do cioè ci siamo non c'è allora il jump scare se c'è è quando le andrò incontro incontro alla faccia guarda come trema la sua la sua anche al buio si vede guarda guarda sei pronto? ci sei? vado? mi ci butto? questa è la faccia della signora lui sta tremando di paura il nostro uomo qua oppure c'è un inizio di parkinson non lo so ci siamo eh fa un effetto strano al buio io vado vado con la suspense guarda i passettini error eh? che roba è? e finisce così non lo so è morto lui praticamente non lo so c'è stato un errore e l'errore è naturalmente voluto anche in questo caso ma 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 ma